In realtà è una cosa che mi piaceva, poi la sto sfruttando molto per il lavoro e anche per i video aziendali che facciamo. Sì, no, è stata una cosa veramente molto, molto interessante e sta dando i suoi risultati. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Generazione Z. Io sono Manuel Garau e come sempre, prima di iniziare con la nostra intervista, ci tengo a ringraziare l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e tutte le aziende che supportano il format, perché ci aiutano a creare questo ponte di connessione tra le aziende e le scuole. L'ultima volta abbiamo intervistato Luca Girini, noto imprenditore a livello europeo, e vi invito davvero a guardare l'intervista, se non l'avete vista, in tutte le piattaforme, YouTube, Spotify, Amazon Music, in qualsiasi piattaforma. Oggi, qui con noi, abbiamo un'imprenditrice che racconterà, tra l'altro, un ricambio, questa azienda, la Falegna Miriakau, ha passato tre ricambi generazionali, ma sarà lei a raccontarcela, infatti ci tengo a presentare Rosella Kau. Ciao Rosella e benvenuta in Generazione Z. Grazie, grazie infinite. Ti ringrazio tantissimo, per me è un onore essere tua ospite. Grazie a te per essere qui, anche perché tu vieni da Collinas. Da Collinas, sì, 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 sono di Collinas, è la nostra azienda, è nata e cresciuta a Collinas. Sì, sì, sì. Bello. Infatti quando ho sempre seguito i vostri video, mi sono sempre innamorata delle interviste che fai. Grazie. Mi sono fatti sempre chiesto, ma vuoi intervistare anche qualcuno, qualche artigiano? Ho notato che voi intervistate tantissimo molti imprenditori che fanno parte del settore terziario. Invece noi facciamo parte di una categoria un po' particolare, ma comunque sempre presente all'interno. E poi in Sardegna, tra l'altro, ci sono tantissime bellissime realtà del mondo artigiano. Sì, 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 assolutamente. Rossella, ti chiedo, dal nome dell'azienda, Falegna Meriaca, si comprende, di certo non vi occupate di informatica. No. Però raccontaci un po' chi sei e di che cosa si occupa più nello specifico, dal tuo punto di vista, l'azienda. Allora, noi in realtà siamo la terza generazione, se contiamo anche mio nonno, perché mio nonno faceva il falegname. Ok. Mio padre faceva, continua a lavorare in azienda. Che ho conosciuto tra l'altro. E poi noi figli siamo in realtà la terza generazione. Di fatto è mio padre che ha costituito Società Veri e Propria nel febbraio del 68. Quindi quest'anno abbiamo festeggiato i 56 anni di attività. Wow. Era nata inizialmente sotto casa di mio padre, in 40 metri quadri. Aveva nello scantilato dell'azienda due o tre macchine e lavorava con un collaboratore. E poi a poco a poco ha deciso di acquistare un terreno che è appunto all'uscita del paese e lì fare una prima parte, aiutata anche da mio nonno. Quindi tu se vieni in azienda vedi questa prima parte dell'azienda che è la prima costruzione. Poi lui che ha con gli anni ampliato l'azienda e poi vedi l'ultima parte che è il nostro ultimo ampliamento risale al 2000. E' eseguito proprio da noi figli, che è la parte più moderna dove abbiamo ampliato un'esposizione e ampliato anche una parte produttiva diversificando. Perché all'inizio mio padre realizzava solo le porte, gli infissi, le finestre. Qualche porta veniva commercializzata, poi alla fine abbiamo deciso di proprio creare due linee separate, una per gli infissi, sempre in legno, e una per le porte interne e i complementi d'arredo. Cioè tu sei praticamente cresciuta all'interno dell'azienda. Sì, come diciamo i miei fratelli. Cioè tu e i tuoi fratelli. Due fratelli, sì. Due fratelli, sì. Due fratelli che sono più piccoli di me. Noi siamo cresciuti giocando con l'oro, giocando tra i truccioli, i truccioli e i martelli, i trapani. Io invece in ufficio. In ufficio? Sì. Ti piaceva di più l'ufficio? Beh sì, sì, io finivo di lavorare, finivo di studiare sin dalle medie. Rosela va in ufficio a fare i preventivi. Mi ricordo piccolina, ero piccolina perché i preventivi si facevano ancora con la macchina da scrivere, quindi non so. Ho incontrato, mi è capitato di conoscere, di incontrare imprenditori che hanno ancora i genitori in azienda, che hanno ancora la macchina da scrivere a casa e c'è in azienda e la utilizzano ancora. No, noi no. Mio padre, mi ricordo, io avevo 14 anni. Perché non fai il corso di etilografia così e non mi fai i preventivi? Io, sì, va bene. No, sempre effettivamente quando non studiavamo andavamo in azienda a lavorare, sì. Aspetta, quindi avevi 14 anni quando hai iniziato qua, dopo le scuole medie. Sì, dopo le scuole medie, sai, era così. Cioè quanto è cambiato da… Oddio, un'infinità. Già l'ufficio era piccolino, adesso invece abbiamo un ufficio abbastanza importante. Poveini, i miei fratelli sono quelli che non hanno appattito di più perché mentre ero in ufficio loro invece dovevano stare in produzione. In produzione, quindi anche più… Sì, era un po' più faticoso per loro, però non ci piaceva. Poi il nostro padre è sempre stato molto… ci ha sempre dato la nostra paghetta, quindi avevamo anche una certa responsabilità. Eravamo responsabilizzati, sì, sin da quando eravamo… Anche un po' il valore di sudarsi il proprio lavoro. Il proprio lavoro, sì, 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 questo sì. È infatti una cosa che siamo sempre stati molto indipendenti da questo punto di vista ed è questa una grandissima… È una fortuna perché spesso si vedono tanti magari figli di imprenditori, è capitato di figli che si sono magari sperperati quello che hanno creato i genitori. Invece, anzi, voi avete preso quel bene familiare, l'avete fatto crescere con tanta responsabilità. Sì, con molta responsabilità. Ci siamo formati per quello. Infatti ogni tanto qualcuno mi dice, ma è una tua scelta naturale avessero di continuare l'attività della famiglia? Oppure è un obbligo dei genitori? No, no, assolutamente no. Non vi hanno obbligo? No, perché i miei genitori hanno sempre detto, attenzione, cosa volete fare? Ok, vi hanno lasciato comunque la libertà di decidere. Assolutamente sì, sì, sì. Anche noi abbiamo avuto dei percorsi, noi tre abbiamo un percorso di studi diverso l'uno dall'altro. Logicamente io mi sono formata più nella parte amministrativa e commerciale. Che percorsi hai fatto tu? Allora, io ho fatto liceo scientifico, poi dopo, devo essere sincera, volevo iscrivermi in economia, solo che l'idea di passare i miei futuri dai 19 anni, 5 anni, molto, come dire, a studiare di tutto e poi dopo i 5 anni dovermi specificatamente formare per la mia azienda, mi stava stretto. Quindi ho fatto un percorso di studio un po' diverso dal solito. Adesso ci sono le lauree brevi, prima no, negli anni 90 non c'erano. Prima nel tuo caso sarebbe stato andare a Cagliari? Andare a Cagliari, farsi quei 5-6 anni di economia e commercio dove si studiava tutto e poi, però, dovevi fare un master, o qualche cosa, qualche specializzazione per... Eh, ma io non volevo aspettare ad avere 26 anni per entrare in azienda, per essere indipendente. Io sempre, devo essere sincera, io ho sempre pensato che avrei potuto condurre... Volevi entrare subito nell'operativo. Però volevo farlo in maniera diversa. Avevo questa condizione che la scuola dell'epoca non preparava al futuro dell'imprenditoria che si stava presentando. E questa cosa, confrontandomi con i miei coetanei che invece avevano fatto quel corso di studi, me l'hanno confermato. Loro dicono, hanno sempre detto, noi ci siamo formati per un mondo che poi è completamente cambiato. Quindi hai fatto bene. Eh sì, con solo di poi ho fatto bene, perché poi cosa ho fatto? Ho deciso, ascolta, avevo visto che a Torino c'era la scuola di amministrazione aziendale che creava, che faceva questi master dedicati all'amministrazione e controllo per le piccole imprese del settore legno e arredo. Ed era una branca finanziata dalla facoltà di scienze forestali di Torino. Ok. E ho detto, cavolo, questo è interessante, mi sa che vado. Ci dedico, vabbè, certo. Studiare, devo studiare, però lo faccio mirata a quel settore. E siccome potevo partecipare come diplomata con esperienza lavorativa, io mi sono fatta passare con esperienza lavorativa che non avevo, però l'ho fatta. E lì mi si è aperto un mondo, perché noi studiavamo per casi aziendali, una cosa che non si faceva qui. Qui dovevi studiare, facevi i tuoi esami, no? Lì invece studiavo per casi aziendali. Un po' più pratico. Molto pratico, sì. Ho avuto come docenti, per esempio, Luigi Brusa, che qui a Calti studiavano nel suo manuale di controllo. Io l'ho avuto come docente. Ho avuto come docente, per esempio, Guarignelo. Tu sei troppo giovane e non lo conosci, ma era... Eh, sì, sono tutti nomi che all'epoca erano molto conosciuti. Guarignelo era magistrato che all'epoca aveva scoperto il famoso dramma del non manipulito, aiuto, le famose lenzuole d'oro di Trenitalia, è una cosa molto importante. E lui faceva, ci faceva formazione sulla legge 626, che è quella della sicurezza sul lavoro. Cioè, ho avuto docenti molto importanti e ogni volta che facevo un percorso lì, poi tornavo in azienda e portavo quello che avevo imparato in azienda. E i risultati poi arrivavano? Assolutamente sì, perché poi è stato un continuo, ho iniziato lì, poi ho proseguito, avevo vinto un master che aveva in quegli anni messo il CIS, e lì è stato fondamentale, perché quel master mi ha insegnato a creare i business plan, che poi... Quanto ti è tornato utile? Tantissimo, tantissimo. Quello secondo me è stato proprio la marcia in più, che mi ha permesso poi di creare in autonomia i business plan, che ha portato alla nascita della nuova parte dell'azienda. Quindi no, è stata veramente molto importante, mi ha dato una visibilità. E poi da lì ho continuato e io continuo tuttora a formarmi, ho sempre quell'idea che... Non si smette, quella... No, non si smette mai... No, non si smette mai di imparare all'uscita. Tipo adesso, cos'è che stai magari approfondendo, studiando? Allora, io da qualche anno mi sono approcciata al mondo dei social, quindi ho cambiato il modo di comunicare attraverso dei video. Una cosa un po' particolare, perché non tutte le falegnamerie comunicano in quel modo, ma molti si fanno vedere il loro lavoro e basta. Volevi fare qualcosa di diverso. Perché attraverso il video la persona interessata non deve solo capire cosa faccio, ma deve essere anche formato e informato. In modo tale che arrivi in azienda già preparato con un'idea e anche per dare, come dire, autorevolezza all'azienda in generale. Questo è stato fondamentale per poter fare quello. Ho seguito prima un corso di comunicazione, poi un corso di edizione. Tutt'ora faccio... Perché quello è importantissimo. Importantissimo. Quello è il mio piacere, però mi si aiutano tantissimo. Sto frequentando da due anni un corso anche di teatro. È stato veramente anche quello molto molto bello. Teatro? Come mai teatro? Ma questo è sempre legato alla comunicazione aziendale o è più... Allora, in realtà è una cosa che mi piaceva. Poi la sto salutando molto per il lavoro e anche per i video aziendali che facciamo. Sì, no, è stata una cosa veramente molto molto interessante. E sta dando i suoi risultati. Vedo... Sì, è un modo nuovo di comunicare. È anche diverso per la nostra categoria. Perché non è una cosa che vedi così frequentemente. È vero. Mi hai sbloccato un ricordo. Mi ricordo quando ero in terza o in quarta superiore. Lo racconto spesso. Io quando la scuola offriva, che ne so sai, i corsi extrascolastici. Ne offrivano tantissimi. E mi ricordo una volta dovevo fare delle ore di alternanza scuola-lavoro PCTO. E c'era, appunto, c'era un corso di teatro. Caspita, mi scrivo così mi convince la professoressa. Vado, non conoscevo nessuno. Io poi timido. Io sono sempre stata una persona molto timida e introversa. Vado lì, non conosco nessuno. Sono durato un giorno. Però è sempre stata, sai, un qualcosa che... Poi ho detto, un giorno ci riproverò. Perché comunque è un qualcosa che mi piace. C'è tutto il mondo del teatro, cinema, spettacolo. Ma aiuta poi nella vita normale. Posso confermarlo. Tantissimi mi hanno detto questo. Ti sblocca anche dal punto di vista comunicativo, nel parlare anche in pubblico. È una cosa che consiglio tantissimo ai giovani. I giovani che fanno anche teatro, vi posso garantire che è un'arma in più. Anche come presentarsi al pubblico, come presentarsi ad un colloquio di lavoro, è veramente molto, molto importante. Sì, sì, io l'ho sempre stato il mio desiderio nascosto. Poi da grande ho voluto fare anche questo. Fare tipo l'attrice oppure spettacolo? Sì, vabbè, no, spettacolo no. A me basta anche essere spigliata e poter comunicare bene quello che facciamo. E poi quanto è importante al giorno? Vabbè, anche prima. Però oggi ancora di più la comunicazione. Soprattutto se si lavora nel nostro settore, perché io ho a che fare con i privati, perché noi lavoriamo soprattutto in un settore dove comunicare ciò che si fa è veramente molto, molto importante. La presentazione. Sai, quando si vende un servizio, è più, tra virgolette, facile poter creare. Quando si vende un infisso, una porta, molti dicono, sì, vabbè. C'è poca fantasia. Invece no, perché quel tipo di prodotto ti apre un mondo, apre la sensazione che tu puoi creare in casa, quel senso di benessere, anche di status sociale se fai un bel lavoro. E sono tutte queste cose che devi comunque comunicare. E chi meglio di un'azienda artigiana che segue i propri clienti può fare, anche se piccola, perché comunque stiamo parlando di un'azienda che è di piccole dimensioni. quindi, quando ti dissi, mi piacerebbe, come dire, poter dare un'altra versione o visione, oltre che alle aziende che si occupano del terziario, anche delle aziende delle produzioni. Cioè, il giovane che si vuole approcciare al mondo anche dell'artigianato, che può essere l'artigianato artistico, ma può essere anche l'artigianato di produzione vero e proprio come il nostro, e è un mondo veramente molto articolato, che merita di essere anche, come dire, preso in considerazione anche per un lavoro nuovo. Assolutamente, anche perché è un lavoro che se ti appassiona, io lo percepisco, chi fa lavori di artigianato sono proprio mossi da una forte passione che molto spesso proviene già da quando erano piccoli, è stata trasmessa da qualcuno, anche a te lo percepisco, anche quando la prima volta ci eravamo incontrati, quando ci stavi raccontando, ci hai fatto fare il tour dell'azienda, cioè, sembrava stessi... cioè, si percepisce proprio che ti piace tantissimo, e poi è vero, dietro un prodotto, che può essere un apporto, un infisso, eccetera, c'è un mondo, ci sono tante emozioni e sensazioni che se non le comunichi non passano, e quindi il potenziale cliente, il cliente e il privato, non gli arrivano, invece comunicandogli... E quindi, anche se l'impresa è piccola, e anche se l'impresa è artigianale, al suo interno ci sono comunque delle figure, degli ambiti, che sono presenti anche nelle grandi aziende. Per esempio, noi abbiamo un settore che riguarda la ricerca e sviluppo, che è quello che si occupa di sviluppare, trovare delle soluzioni al prodotto. Soluzione che può essere una soluzione migliorativa, che può essere la soluzione esteticamente più accettabile, oppure una soluzione che possa permettere un costo o un risparmio in produzione, o la ricerca di un prodotto che faccia durare di più all'esterno, che so, un infisso. Oppure c'è la parte che riguarda il marketing, quindi come comunicare. Poi c'è la parte di formazione vera e propria in azienda. Quindi anche se è piccola l'azienda... Però siete organizzate... In realtà, esatto, ha degli ambiti dove poter esprimersi e ragionare. Quindi anche una piccola impresa artigianale ha quei punti di... quei centri di costo, quei centri di lavoro, che sono comuni alle altre aziende. Anche un'impresa artigianale deve fare un piano di marketing. Anche un'impresa artigianale, se vuole stare al passo con i tempi, deve fare un piano industriale. Il piano industriale, sì, anche se è artigianale o industriale, è sempre un problema, ma non è così. Cioè deve fare una programmazione. E anche se si è artigiani e si lavora con pochi collaboratori, queste cose bisogna saperle. È una cosa, a mio avviso, che deve essere trasmessa ai giovani. Perché i giovani ora hanno un'idea completamente diversa, per fortuna, rispetto alla nostra. In che senso? A mio avviso, una marcia in più. Io, quando ho necessità di avere qualche idea innovativa, devo, come dire, liberarmi di alcuni pesi e ascoltare i ragazzi. Perché è da loro che io riesco a percepire bisogni, nuovi modi di comunicare che diversamente non riuscire, se rimango sempre nelle mie convinzioni. L'imprenditore è un po' come, lo vedo un po' come, sai come un cilindro? Sì. Quando arrivi a 50 anni, quel cilindro è pieno, è pieno di esperienze, è pieno di errori, è pieno anche di soluzioni. Ecco, se vuoi che questo cilindro non esploda, devi al basso lasciare andare tutte le esperienze, ecco, in quel caso, ecco, dai, dai, cedi le tue esperienze, cedi i tuoi consigli, diciamo, ciò che hai fatto e come l'hai superato e lascia spazio per le novità. Un po' l'unione tra, infatti, la congiunzione migliore è proprio quando si unisce l'esperienza all'esperienza che può avere una persona più adulta all'innovazione che ha un ragazzo un po' anche un po' incosciente che si butta. Sì, sì, sì. Infatti, un esempio in questo è stato un'imprenditrice che abbiamo intervistato, eravamo in una scuola e i ragazzi tra le varie domande dopo che abbiamo staccato la diretta hanno detto delle cose riguardo a TikTok, dei video che potrebbe fare per TikTok. Lei ha iniziato a fare dei video su TikTok, ha aperto il profilo su TikTok, ha iniziato a fare dei video ascoltando proprio i feedback dei ragazzi, io la sto seguendo e sta crescendo anche di numeri. E cosa ha fatto? Lei ha ascoltato proprio il target. I ragazzi erano dei sedici, erano dalle terze fino alle quinte superiori, quindi sedici, diciannove, vent'anni esagerando, ha ascoltato le loro idee che magari qualcuno avrebbe potuto dire no vabbè ma... Io per dire chi mi segue a tutta la parte social sono tutti giovani. Eh no, assolutamente perché io non arrivo... Allora, io mi sono fatto i miei corsi per capire come funzionava, però al momento pratico ho detto no, attenzione, io adesso so come funziona quindi mi posso rivolgere a chi sa meglio di me come metterlo in pratica e loro fanno loro. Ah, quindi il team che ti aiuta nel... Sì, sì, allora, giustamente a me piace conoscere le cose ma non perché devo fare tutto, non posso, non è... Un imprenditore non può fare tutto, non è imprenditore chi fa tutto, il imprenditore che sì, deve sapere un po' di tutto poi deve sapere a chi demandare. tutta la parte diciamo social io logicamente la demando ad una social media manager che è giovane a chi è esperto in quel settore con il quale ci rapportiamo mensilmente e definiamo qual è il piano editoriale però è lui quello che fa le cose. Anche in questo caso io a te che mi rivolgo per poter dire chi sono perché tu sai come comunicare alla tua generazione ha anche questa tipologia di lavoro che può essere un'ultima alternativa a tante altre opportunità. Perché no? Ognuno poi si specializza in una cosa e ognuno deve fare il lavoro per cui è portato diciamo. Ok, guarda ti volevo chiedere una cosa riguardo al vostro team inizialmente quanti siete voi in azienda? Attualmente siamo in dieci. In dieci. C'è qualcuno della generazione Z? No, allora l'età media uscita tra i 35 e i 45 anni però a breve avremo un tirocinante della generazione Z. Sì, 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 per curiosità e l'hai fatto tu il colloquio? Ti occupi tu? sì, l'ho fatto io il colloquio. E quali sono le domande che hai fatto durante il colloquio? Allora c'è stata una selezione tra virgolette naturale perché ho sempre chiesto che le persone che entravano in azienda avessero almeno un diploma. Non importa quale. Non importa, non mi interessava. e non mi interessava neanche che avessero delle precedenti esperienze lavorative soprattutto sei un tirocinante quindi sei una persona da 22 anni anzi meno formazione nel nostro settore A meglio è perché è più facile per noi ha la mente libera quindi riesce a percepire di più e sicuramente quello che mi ha colpito di questo ragazzo era questa voglia di provare e poi questo entusiasmo lui è un ragazzo molto gioioso e molto disponibile ha dato subito questa sensazione di voler imparare ecco lui si è presentato che voleva fare questa prova non mi ha dato garanzie ma io non le volevo è stato molto onesto però mi ha detto io voglio provare e giustamente farà un percorso di tirocinante per i primi sei mesi e poi se lui farà il suo buon percorso si apriranno poi le porte per un apprendistato e via dicendo guarda di quelle dieci persone le ultime due assunzioni sono persone che non provengono dal nostro settore non hanno mai fatto lavorare in falegnameria eppure ci sono da un anno un anno un anno e mezzo e sono tra le risorse diciamo sono rivelate delle risorse fantastiche bello sì 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 a volte vedi i cambiamenti eccetera trovi un altro settore dove fai emergere maggiormente il tuo potenziale molto spesso lo scopri anche dopo lo scopri dopo sì infatti non è necessario per cui c'è qualche domanda che tu fai sempre durante i colloqui allora a lui per esempio così ci prepariamo la risposta no gli ho chiesto ma tu dove ti vedi da qui a cinque anni tanto perché tanto è inutile fare previsioni a lungo termine bella domanda sì è anche complessa perché sai avere una visione è importante è importante perché da qui a cinque anni tu sapere che tra cinque anni vuoi fare quel percorso significa che già da adesso devi cominciare a avere delle basi devi sapere come muoverti quindi sai già avere una visione a cinque anni significa che sei predisposto ad iniziare un percorso e ad avere delle idee non dico chiare però ad aprirti all'idea di poter iniziare qualcosa è questa è una cosa avere una visione sì avere una visione sì non per forza chiarissima scritta ma no ma chi l'ha avuta io a quell'età mi presentavo appunto come diplomata con esperienza lavorativa e invece pur di entrare a far parte di un corso ma dai mi infilavo nei corsi a volte bisogna essere intensiva perché ma perché avevo una visione quindi la cosa importante l'obiettivo era quello Rosella noi solitamente chiediamo alla fine dell'intervista proprio sulla base della tua esperienza che consiglio ti senti di dare a noi della generazione Z oh oddio un consiglio no consiglio no come dire siate come dire siate come dire desiderosi di apprendere desiderosi curiosi 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 non fermatevi non fermatevi alla prima difficoltà tra l'altro perché perché il mondo è fatto di alti e bassi e bisogna nel periodo in cui si sta sulla cassa dell'onda bisogna anche preparare i salvagenti per quando si scende perché capita capita l'importante è sapersi e sapersi rialzare quindi comunque avere come dire quell'entusiasmo è un briciolo di visione dei sogni sai l'età la vostra generazione ha una bellissima cosa che è quello di avere tanto tempo in avanti quindi ha tanto tempo a disposizione per provare quindi provate provate assolutamente con entusiasmo provate con entusiasmo poi a poco a poco le cose arrivano curiosità entusiasmo e sognare bellissimo Rosela davvero grazie mille è stata una bellissima chiacchierata una bellissima testimonianza ma anche tanti preziosi consigli davvero ti ringrazio per averci dedicato il tuo tempo ringrazio anche tutti voi che ci avete guardato fino alla fine l'ufficio scolastico regionale e tutte le aziende che supportano il format noi ci vediamo alla prossima puntata ancora grazie Rosela grazie a voi ciao a tutti